Andrea, ci parli di due fake sul latte le più importanti, diciamo, le più diffuse? Ce ne sono talmente tante che si fa fatica a trovare quelle più, diciamo, meno aderenti alla realtà. Si dice che il latte sottrae calcio all'osso, si dice che il latte è innaturale perché siamo l'unico mammifero che beve latte e soprattutto di un'altra specie. Insomma, del latte se ne dicono di tutti i colori. Che c'è troppo grasso e quindi ci fa diventare ciccioni oppure fa avvenire malattie cardiovascolari. Tutto questo ovviamente non è vero. Il latte è un alimento, non possiamo dire completo perché non esiste un alimento completo, ma è un alimento molto ricco di tantissimi nutrienti e quindi in un'alimentazione corretta non solo trova posto ma potrebbe anche essere responsabile di prevenzione di alcune patologie, soprattutto quelle dell'osso, ma anche cardiovascolari, anche diabete e anche alcuni tipi di cancro. Grazie mille.